Siamo a Borrello, alla cascata del Rio Verde, in provincia di Chieti, un'asi naturale, conosciuta dagli entri. E qui, come vedete, c'è una delle cascate più belle e suggestive della regione Avruzzo. Una cascata facilmente raggiungibile con una piccola discesa e poi salita di 170-200 gradini circa. I gradini che possono essere messi in sicurezza alla discesa di questi gradini tramite un robusto passamano in metallo. Ragazzi, l'entrata si paga 2 euro per entrare. C'è anche un altro percorso panoramico su Rio Verde, che è un fiume, un torrente, affluente del Sangro. E poi, che è anche quello che dà l'acqua, che sembra a Parasammartino, passando per i colori di Parasammartino. Da Cristiano Vignani è tutto, qui da Borrello, nel Sangro, Mediosangro, provincia di Chieti. Ciao ragazzi, salutiamo!